Musica Elisa Ottobre, anche lei componente della squadra del Lazio in questa bellissima gara che è il Gran Premio delle Regioni Com'è stato questo Gran Premio per te? Ma è stato molto emozionante fino all'ultimo e soprattutto molto coinvolgente anche seguire gli altri componenti della squadra è un'emozione veramente indescrivibile, molto bella Con chi monto e dove? Monto con Emiliano Liberati al Cassi Equestrian Club Emiliano Liberati è un ottimo tecnico, istruttore e molto bravo È stata difficile la preparazione per arrivare poi a far parte della squadra? Ma diciamo che è un duro lavoro, comunque ci deve sempre stare è sempre progressione nelle cose e non mi posso lamentare con il mio istruttore tecnico che ho perché è ottimo Un buon piazzamento anche nella gara riservata appunto allo stile Sì sì, molto bello, molto soddisfatta di questa cosa molte soddisfazioni, stanno arrivando molto bene Bene, grazie mille, complimenti Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille